Questa è la storia di CP. Sapete chi è CP? CP è un passerotto curioso. CP prova a volare. Ce la farà? CP esplora il mondo. Nel corso del suo viaggio stringerà alcune amicizie. Ciao, io sono una margherita e mi chiamo Margherì. Sai, spesso mi sento sola qui. Che ne dici se diventiamo amici? CP. Durante il suo volo incontra una dolce compagna. È Passerì, un'uccellina con un'ala ferita, di cui CP si prende cura. Con il tempo i due si innamoreranno. Ma affronterà anche dei pericoli. Il mondo cambia. Il mondo cambia. Qualcuno disturba il volo degli uccellini. Chi sarà? . Grazie a tutti.